ciao buonasera ciao presentatevi diteci un po di voi mi chiamo tiziano e ho 23 anni io mi chiamo tim e ho 24 anni cosa vi lega siete fratelli migliori amici migliori amici e che cosa fate questa sera balliamo vogliamo lanciare una challenge ok 12 balli in 100 secondi mi raccomando il palco è vostro in bocca al lupo grazie siamo i vatussi siamo i vatussi gli altissimi i negri noi siamo quelli che nell'equatore mettiamo per primi la luce del sole iniziano wow Wow! So put your hands up, po, po. Ho, po, po. Bam, 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 bam! La gente siempre va para todo. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Another one! What the… Secondo me questa performance ha un solo problema E che dura troppo poco Cioè io volevo vederne ancora Bravissimi Grazie mille Volevo che durasse di più ognuno E poi più balli Grazie mille Siete veramente forti Grazie Anche a me Mi siete piaciuti moltissimo Avete eseguito molto bene Divertente anche l'idea Passato attraverso il tempo Molto carino Grazie mille Prego Joe Sì ma bravi bravi Ovviamente vi conoscete benissimo Si vede dall'interazione Della preparazione A me mi è piaciuto Bravo Tanta roba in cento secondi Tanta roba Sì all'inizio Onestamente Avevo un po' di paura Perché insomma Fare dodici Coreografie diversi In cento secondi È veramente tanta roba È pochissimo tempo Siete stati incredibili Perché poi eravate precisi Coordinati Belli dall'inizio alla fine Bravi ragazzi Grazie Votiamo Frank Sì Mara Sì Grazie Joe Per me è un sì Bravi E allora ragazzi Sono quattro sì Grazie 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 Grazie